Stai valdo, non farei niente che mi mettere in barazzo o che rovini le mie chance di mettere l'Ifman. Signori? Ehi, vostra maestà. Smab, Grab, è veramente uno splendido gruppo di baccelli. È molto difficile per me fare una scelta. Boom! Eccolo qui, il più grosso del bigonzo. Che ne dite di quello? Quello là! Dite sul serio! Ma è così! Perfetto, è perfetto! Scelta davvero eccellente, vostra maestà, a differenza di te, a classe. Ho deciso che questo è quello giusto.